Buonasera cari amici, bentrovati a Metropolis, come sempre facciamo il lunedì, dunque ci occupiamo di condominio, di casa e nella seconda parte di problemi che riguardano le pensioni. Per quanto riguarda il condominio, come sempre qui con noi il nostro esperto Fabrizio Visca, amministratore di condominio. Buonasera a tutti. Come sempre io vi ricordo, chi vuole telefonare, chi vuole chiamarci per porre quesiti, domande o quant'altro lo può fare, vedete il numero di telefono 0248073450, se volete potete anche fare dei brevi messaggi via WhatsApp, c'è anche questo sistema e quindi noi potremmo rispondere, diciamo così, alle vostre domande. Introduciamo il tema condominio con, visto che siamo verso la fine dell'anno, ormai mancano veramente una manciata di giorni alla fine del 2018, ebbene, tempo di bilanci in generale, tempo di bilancio anche per quanto riguarda il condominio, il bilancio è proprio un'attività, il lavoro dell'amministratore condominiale. Dunque ci avviciniamo a questa scadenza, in generale quali sono le difficoltà? Allora, le difficoltà intanto, scusate la voce, ma un po' la voce bassa per caso di influenza. È la voce del periodo. Sì, allora, le difficoltà sono, le aziende chiudono gli esercizi al 31-12, molti condomini chiudono anche loro il periodo, chiamiamolo esercizio contabile, al 31 di dicembre, quindi ci stiamo avvicinando a quello che è la chiusura. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'amministratore tira la famosa riga e va a consuntivare, cioè quindi a dire quali sono le spese effettivamente sostenute dal condominio. Durante l'anno? Durante l'anno, in questo caso parliamo del 2018, quindi dal 1 gennaio del 2018 al 31 di dicembre, anche perché tutto un anno i condomini pagano le rate su quello che è un preventivo di spesa, invece in questo caso andiamo a dire quali sono effettivamente le spese sostenute dal condominio. Quindi si fa un confronto tra preventivo e il risultato finale. Tra preventivo e consuntivo, esatto. Le difficoltà quali sono? La difficoltà intanto è come presentare un bilancio in un condominio, anche perché è intervenuta la riforma nel 2012, la quale ha non solo normato o novellato alcuni aspetti del condominio, ma ha anche novellato e normato quello che è la presentazione di un bilancio, perché ha introdotto quella che si chiama la nota integrativa. Anche nei bilanci societari era già previsto dalle normative comunitarie che quando una società deve presentare un bilancio deve presentare anche una nota sintetica integrativa al bilancio. Anche per i condomini è stata introdotta questa nota integrativa, chiamiamola così, in realtà si chiama nota sintetica, in cui l'amministratore proprio verbalmente, o comunque è come un tema, chiamiamola così, va a specificare, a raccontare, ecco passatemi il termine, a raccontare come è andato l'anno finanziario, l'anno contabile del condominio. Quindi andando a specificare quello che i numeri non potrebbero raccontare. Quindi eventuali spese impreviste, fondi accantonati piuttosto che spese straordinarie eseguite e quant'altro. Per cui la particolarità sta proprio in quello, nel bilancio che deve essere costruito e esposto all'assemblea in maniera precisa e dettagliata. Dovremmo già avere una chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego, può fare la sua domanda, è in linea. Ecco, ecco, la domanda al dottor Visca, all'esperto. Succede nell'assemblea condominiali che l'amministratore presenta preventivi di spesa di lavori e lavoriotitolo che sono il più del doppio di quello che è una logica corrente. Sì, l'assemblea è regina fino a un certo punto cosa si può fare per abbattere i costi condominiali. Tra l'altro lui rifiuta espressamente preventivi che vengono fuori all'ultimo momento. Ecco, cosa si può fare per contrastare questa anomalia? Ma ci può fare un esempio, non so, di spesa uscita ultimamente, secondo voi una cifra esorbitante o comunque più alta del previsto? Guarda, i video citofoni, un esempio. 10-12 mila euro il preventivo dell'amministratore io ne ho presentato uno che era meno della metà. Ah, ho capito. Parità di qualità, non è qualità scadente, è la stessa marca o market top, però lui non accetta assolutamente quello che è un preventivo migliore al condominio. Penso che sia un modo un po' spinoso questo, è che nel comune un po' da quello che mi dicono anche ad altri stati, ecco. Cosa si può fare per questo vecchio vizio tipico mostrano? Cosa si può fare? Cosa si può fare? Le rispondiamo, grazie della telefonata. Allora, è un argomento sicuramente e giustamente, come diceva il signore, molto spinoso. Allora, io do due indicazioni che sono due indicazioni dettate dalla pratica condominiale. Cioè, è vero da un lato che l'assemblea condominiale è sovrana e quindi decide lei che cosa fare, che cosa non fare, cosa deliberare e cosa non deliberare. Il signore diceva una cosa molto precisa, l'amministratore non accetta che vengano presentati i preventivi all'ultimo. Questo dovrebbe già essere un segnale d'allarme, per un motivo molto semplice. Intanto non è perché vado contro un amministratore piuttosto che un altro, ma io lo sto dando indicazioni riguardo a quello che è la prassi che si dovrebbe tenere all'interno di un condominio. Anche perché il collega non lo conosco, per cui non mi permetterei di giudicare il suo operato. Chiunque dei condomini può avanzare un proprio... Assolutamente. Ecco, la cosa fondamentale è che all'interno di un condominio tanto l'amministratore quanto i condomini, singolarmente o insieme, possono presentare dei preventivi. È un loro diritto, è un loro dovere anche, tra l'altro, perché ovviamente in condominio ci abitano i condomini, quindi è un loro diritto e dovere. La cosa fondamentale sarebbe sempre, soprattutto in questi tipi di lavori, quelli in edilizia piuttosto che citofonia, piuttosto che altri impianti condominali, si lavori su quello che si chiama un capitolato di lavoro. Cioè, il capitolato viene preso un tecnico che fa un capitolato di lavoro, cioè che specifica che cosa si deve fare all'interno per risolvere quella problematica condominiale e su quello tarare tutti i preventivi. Perché così si ha un metro di valutazione univoco e uguale per tutti. Perché se uno fa i citofoni d'oro, quell'altro li fa di carta, evidentemente ci sono prezzi diversi. Esatto, il signore diceva, io ho trovato un preventivo alla metà del prezzo di quello dell'amministratore. Detta così, è vero che è più economico, però bisogna vedere la tipologia di lavoro. Magari uno dice, te lo faccio alla metà perché ti tralascio fuori molte altre lavorazioni che invece quello dell'amministratore lo fa. Quindi invece se si ha un capitolato, cioè bisogna fare A, B, C e D e tutti si uniformano su A, B, C e D, a me mi costa 10, a me mi costa 9, a me mi costa 8. Allora ho un parametro di valutazione standard. Stabilito che voglio comprare una Fiat Panda, vado da tutti i concessionari e vedo qual è. La Fiat Panda è uguale a tutti i concessionari e vedo quello che mi fa il prezzo migliore. Ecco, lui diceva però, lui aveva guardato anche la qualità e aveva detto, abbiamo visto dei costi di apparecchi della stessa marca. Quindi a questo punto bisogna lì, non so, convincere anche l'amministratore di prendere un'altra strada. Allora, si può convincere anche l'amministratore magari a rivalutare quelli che sono un po' i parametri dei vari fornitori, però teniamo conto che qualunque fornitore ha un suo ricarico, perché altrimenti se ne sono un guadagno non lavorerebbe nessuno. Però, ripeto, detta così è un parametro che da me, da questo punto di vista, è un po' difficile quantificare. Valutare sicuramente sì, avere un capitolato di speso, un ivoco per tutti facilita i condomini a valutare le varie offerte, perché ovviamente facilita in questo senso. E si arriva più facilmente a una decisione. Si arriva più facilmente a una decisione e soprattutto l'amministratore non può rifiutare o non può comunque fare opposizione nei confronti dei preventivi presentati anche all'ultimo minuto. Perché, ripeto, diritto e dovere dei condomini di presentare un preventivo a tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Però naturalmente la richiesta deve essere uguale, uniforme. Uniforme, certo. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, è in linea. Sì, è in linea. Certo, è in linea. Pronto? Pronto, pronto. La sentiamo. Pronto? Pronto, posso parlare? Prego, faccia pure la domanda. Senta, volevo chiedere due cose all'esperto di condominio. Sì. Io abito in un condominio, no? Che chiude il bilancio il 31 di dicembre, no? E un fornitore, noi siamo creditori verso un fornitore che ci deve pagare, ma non c'è ancora pagato. E l'amministratore lo mette già nella colonna dei soldi che sono in cassa. È normale, secondo lei. Primo. Secondo, chiude il bilancio il 31 di dicembre e mette ancora delle bollette di spese condominiali a scadenza 4 marzo. A me mi insegnano che le bocce bisogna coprirle quando sono tutti fermi. Cosa vuol dire? Come i supermercati fanno diventare con i negozi aperti. È normale, secondo lei. La ringrazio. Grazie. Grazie a lei della chiamata. Allora, rispetto alla prima domanda, sicuramente il fornitore che ha già messo nella colonna del bilancio il credito che vanta nei confronti del fornitore. Allora, non è sbagliatissimo dal punto di vista contabile, però un amministratore, secondo me preciso, un amministratore che vuole essere anche trasparente a livello contabile, nel momento in cui io incasso vado a decurtare quello che è il credito che ho incassato. Perché in questo modo lui va a ridare dei soldi giustamente a dei condomini, però resta un credito comunque incagliato, perché il credito non è stato ancora incassato. per cui si rischia... Ma quale può essere il credito di un fornitore? Allora, in questo caso può essere magari che c'è stata una problematica a livello tra preventivo e poi consuntivo dei lavori, che magari è stato preventivato una spesa che i condomini hanno già versato per istituire un fondo, adesso sto... e poi in realtà invece il lavoro è stato per 80, per cui c'è questo 20 di differenza che va ridato nei confronti dei condomi. Questo potrebbe essere un esempio, poi ci sono tantissime altre casistiche più pratiche, però mi sembra di aver capito che lui dice, il telespettatore diceva che è stato già messo una colonna di crediti quando in realtà il condominio ancora non ha preso i soldi, quindi vuol dire che i soldi li ha già sborsati prima, quando in realtà non erano dovuti. Io l'ho intuita in questo contesto. Cioè lui è una presunzione, insomma... Si, lui dice, li prenderò e già ve li scalo adesso, è un po' come, insomma, come si suol dire quando i buoi sono già scappati, ecco io invece mi atterrei un po' più a quello che è un principio di cassa, cioè nel momento in cui vado ad incassare il credito, a questo punto lo vado a ridare ai condomini. La seconda domanda invece era per il discorso della rata di marzo, se non ho capito male, beh se dobbiamo chiudere il bilancio, intanto il bilancio va approvato. Uno, finché non viene approvato non si possono neanche mettere delle rate, quindi non si può pretendere che i condomini versino delle spese. Capisco che si può arrivare a dei momenti in cui l'amministratore ha pochi soldi in cassa, però questo non vuol dire che io devo chiedere i soldi prima. Prima va approvato il bilancio e dopodiché io posso vantare, io condominio, posso chiedere i soldi ai condomini. C'è un giusto scadenziario di tutte quelle che sono le spese. Niente, abbiamo in linea un'altra persona, aspettiamo, vediamo se arriva, forse abbiamo anche un whatsapp. Ci dice Roby, hanno fatto una riunione condominiale per dire che non saluto due persone del palazzo, secondo voi è normale? Beh, oddio, può essere normale perché magari può capitare che a volte quando ci si incrocia non ci si vede e per cui succede. È chiaro, allora adesso provo a interpretare un po' quello che è la domanda fatta dal telespettatore. È chiaro che una questione del genere in un'assemblea di condominio mi pare un po' azzardata come ordine del giorno, è superfluo, ci sono cose un po' più importanti. Ecco, in relazione, fra l'altro, a quello che diceva il telespettatore prima, ha parlato di bilancio, che è il tema con il quale abbiamo aperto stasera la trasmissione e nel bilancio ci sono dentro tante cose, ovviamente perché possono capitare anche dei danneggiamenti, dei danni, degli incidenti durante l'anno e quindi vorremmo anche introdurre l'argomento dei sinistri condominiali, quando magari si rompe una tubazione, quando c'è un'infiltrazione, tutto questo dovrebbe essere coperto da un'assicurazione che è praticamente obbligatoria. Allora, l'assicurazione condominiale, quella che poi si chiama polista globale fabbricato, è un'assicurazione a tutti gli effetti che però non è obbligatoria, nel senso che non è che ogni condominio necessariamente debba avere, è a discrezione, è discrezione nel senso che ogni condominio può decidere di non essere coperto da un'assicurazione, non è come le macchine che devono avere per forza almeno la RC, il condominio può anche non averla, è chiaro che il 99% dei condomini in Italia ce l'ha perché possono succedere di ogni, sia danni alle tubature che danni a terzi che vivono in condominio, coloro che transitano all'interno del condominio. Allora, si chiamano polizze globali fabbricate, ormai ce l'hanno quasi tutte le compagnie assicurative che è una polizza prevista, ripeto, da tutte le compagnie, hanno dei prodotti che ormai coprono qualunque danno, qualunque evento si verifichi in condominio. Dal tetto, dalla tegola che si rompe, dalla tubatura, ai pluviali immurati piuttosto che a danni a terzi perché c'è anche un RC, quindi una responsabilità civile all'interno del condominio. Si rompe un tubo e si allaga l'appartamento di sotto. Esattamente, oppure pensiamo anche a dei parenti che vengono a trovare chi abita in condominio e per un gradino cadono e si rompono una gamba o comunque subiscono dei danni, quindi è una responsabilità civile da parte del condominio. Ce li hanno tutti, ripeto, tutte le compagnie prevedono le polizze globali fabbricate, quasi tutti i condomini lo fanno ed è molto utile perché va a coprire tutte quelle che sono, poi è chiaro che ogni polizza va tarata in base ai danni che deve coprire, si parla di eventi atmosferici, si parla di incendio, si parla di tubature, si parla di perdita di acqua e quant'altro. Tenete conto sempre che ci sono le franchigie, quindi ogni polizza va sì a coprire quello che è un danno e quindi un costo che deve sostenere il condominio per riparare il danno però non verrà mai rimborsato al 100% perché c'è sempre una franchigia che varia tra i 150 euro e i 250 euro, quindi tenete conto di quello e soprattutto non solo va a coprire il costo di ripristino dell'impianto condominiale ma va anche a coprire i danni subiti dal condomino in questo caso, ipotizziamo una perdita da parte di una braga condominiale che va anche a bagnare tutto il soffitto di un appartamento, il proprietario dell'appartamento dovrà procedere poi una volta sistemato il problema all'imbiancatura del soffitto perché sennò si vede il famoso alone giallo, la macchia e quant'altro, quindi la polizza globale fabbricati prevede sia la ricerca del guasto e quindi la sostituzione della braga che anche la riparazione di quello che è il danno subito dal condomino, questi si chiamano polizze globali fabbricati. In base a quella che è un po' la tua esperienza, penso che il consiglio è quello che tutti i condomini stipulino una polizza perché naturalmente ci sono incidenti che possono sempre verificarsi, ma effettivamente in generale possiamo dire che sono valide le polizze? Sono valide perché coprono spesso e volentieri, tra l'altro molte polizze oggi prevedono anche quella che è la conduzione degli appartamenti, quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che coprono anche dei danni che vengono procurati dai condomini nella conduzione del proprio appartamento, ipotesi, cade un vaso inavvertitamente piuttosto che succede qualunque altra cosa che io dal mio appartamento creo un danno a terzi o al condominio, la conduzione degli appartamenti è all'interno ed è prevista dalla polizza globale fabbricati, sono validissime, è chiaro che hanno delle loro regole, per cui questo cosa vuol dire? che il sinistro deve essere denunciato entro un certo tempo, ci deve essere comunque una perizia da parte di un tecnico incaricato, però tutto sommato in base alla mia esperienza hanno sempre pagato, per cui sono molto ben propense a coprire tutte queste tipologie di danni. In relazione alle responsabilità invece cosa possiamo dire? Sappiamo tutti che quando per esempio si rompe il tetto in una sua parte eccetera è a carico di tutto il condominio, quando si rompono delle tubazioni o succede qualcosa in un appartamento lì deve intervenire il proprietario dell'appartamento o anche in quel caso può intervenire tutto il condominio? Allora c'è una particolarità perché le tubature a livello di normativa italiana bisogna distinguere tra quella che è la tubatura verticale e la tubatura orizzontale. Ora noi dobbiamo, per fare un esempio molto pratico, proviamo a immaginare un condominio in verticale, che si sviluppa in verticale, ovviamente le tubature hanno una montante, quella che si chiama montante verticale, che sono le tubature che vanno in verticale. Quindi l'acqua che arriva ad esempio ai vari appartamenti... C'è il tubo di mandata dell'acqua in verticale, c'è il tubo di ritorno, poi ogni tubatura al piano ha la braga, la braga cosa vuol dire? Fa una deviazione e va ad innestare nelle tubature orizzontali che vanno a servire i singoli appartamenti. Quindi o nei bagni o nelle cucine. O nei bagni o nelle cucine. E' chiaro che saranno diversi impianti perché di solitamente le tubature hanno una montante, quella che si chiama montante verticale, che sono le tubature che vanno in verticale. Quindi l'acqua che arriva ad esempio ai vari appartamenti... C'è il tubo di mandata dell'acqua in verticale, c'è il tubo di ritorno, poi ogni tubatura ha il piano alla braga. La braga cosa vuol dire? Fa una deviazione e va ad innestare nelle tubature orizzontali che vanno a servire i singoli appartamenti. Quindi o nei bagni o nelle cucine. O nei bagni o nelle cucine. E' chiaro che saranno diversi impianti perché di solito il bagno e la cucina non sono vicini, per cui sono uno all'opposto di quell'altro, quindi ci sarà la colonna di mandata del bagno, quindi delle acque scure piuttosto che delle acque chiare o grigi. E c'è una differenza tra tubo orizzontale e tubo verticale? C'è una differenza perché il tubo verticale, quindi la mandata verticale che va a servire tutti i piani, dal primo, secondo, terzo e poi ritorna giù, questo il tubo verticale è sempre esclusivamente condominiale. Perché dobbiamo pensare che è una tubatura che serve tutti. C'è l'acqua la manda per tutti. Poi è la braga, la braga che è questo gomito, chiamiamolo così, un gomito proprio a tutti gli effetti, plastico piuttosto che di un altro materiale che va a servire le tubature orizzontali. E queste tubature orizzontali vanno a servire esclusivamente quel piano, quindi quell'appartamento. È inevitabile, è tecnicamente inevitabile. Il piano orizzontale quindi è considerato tubatura privata, quella verticale invece condominiale. Poi succede spesso che quella che si rompe più spesso è la braga condominiale, quindi il gomito. Quindi è lì che c'è l'infiltrazione, ecco perché spesso vediamo le infiltrazioni negli angoli. In quel caso la braga condominiale da una sentenza della Cassazione è sempre stata considerata condominiale, per cui le polizze condominiali intervengono perché essendo una parte condominiale vanno a risarcire nel vero senso della parola sia la ricerca del guasto della braga condominiale che poi il danno nell'angolino che si vede in alto di infiltrazione dell'appartamento privato. Quindi finiamo con il consiglio. Fate sempre la polizza condominiale. Fate il consigliare, magari confrontate le varie tariffe. Sicuramente un buon amministratore o la maggior parte dei miei colleghi suggeriscono sicuramente una polizza, anche se pur minima, con le minime garanzie, però una polizza globale fabbricati è straconsigliata. Va bene, io ringrazio tantissimo il nostro esperto Fabrizio Visca, amministratore di condominio. Ci fermiamo per alcuni istanti e poi parleremo, come sempre, di pensioni. Eccoci ancora a seconda parte di Metropolis. Come vi avevo anticipato, si parla di problemi legati alle pensioni. E lo facciamo con sempre il nostro esperto Luca Chiarei, patronato Inca CGL di Milano. Buonasera Luca. Salve, buonasera. Come sempre vi invito chi ha necessità, chi vuole porre domande o quesiti in relazione al tema delle pensioni, lo può fare, il nostro numero ormai lo conoscete, alla base del teleschermo. Se volete c'è anche qualche breve messaggio che potete fare in Whatsapp, parleremo anche di quello. Ma intanto per introdurre l'argomento, parleremo anche delle novità che stanno per arrivare con la famosa quota 100. Prima iniziamo con la prescrizione per quanto riguarda il comparto dei dipendenti pubblici. Sì, questa è stata una misura che in questi ultimi mesi ha messo in agitazione tutto il comparto del pubblico impiego, nel senso che l'istituto della prescrizione, cioè il fatto che il datore di lavoro abbia una scadenza entro la quale deve versare i contributi, passata la quale senza averlo fatto i contributi non sono più esigibili da parte del lavoratore, è una norma che è in vigore da sempre diciamo nel settore privato. E qui ricordo a tutti che il termine ultimo è quello dei cinque anni, quindi verificare in generale che il datore di lavoro adempia al proprio dovere del versamento contributivo. Questa norma è stata estesa, in realtà è una norma molto vecchia, ma che poi non ha trovato un'immediata applicazione, però diciamo nel corso del 2018 l'Inps ha emesso alcune circolari in cui ha detto io decido dal primo gennaio del 2019 decido di applicare la prescrizione anche nel settore del pubblico impiego. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qualche ente pubblico non avesse versato i contributi nel corso della carriera lavorativa del lavoratore, quei contributi lì non erano più esigibili. Questa era una norma diciamo totalmente innovativa perché nell'ambito del pubblico impiego fino ad allora il concetto diciamo della prescrizione contributiva per il tipo di rapporto che legava il lavoratore con il proprio ente non esisteva. E quindi c'è stata una grandissima agitazione nel settore per andare a verificare le posizioni, tenendo presente che a differenza che nel settore privato gli estratti contributivi dei dipendenti pubblici a volte hanno delle anomalie di registrazione proprio evidenti, proprio abnormi, ma il che non voleva dire che i contributi non ci fossero, ma solo che erano state fatte delle registrazioni nel corso degli anni totalmente approssimative. Comunque per farla breve, cosa è successo? Che l'Inps ha fatto una circolare in conseguenza anche di tutto il movimento che c'era stato sulla questione anche dell'intervento delle organizzazioni sindacali su questo, è stato deciso di posticipare per un altro anno ancora la scadenza dell'entrata in vigore della prescrizione contributiva. Quindi si va? Si va al primo gennaio del 2020, non nel 2019. Quindi abbiamo tempo ancora un altro anno per sistemare le posizioni e regolarizzare. Possiamo tirare un sospiro insomma. Si, almeno da questo punto di vista direi senza altro. Dovremmo già avere una prima chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Allora, vediamo se adesso chiamerà un altro telespettatore. Attendiamo qualche istante. Io volevo anche introdurre, dopo questo chiarimento che ci ha dato Luca Chiarei della CGL, anche il discorso della famosa quota 100 che si andrà ad affiancare, seppur in modo estremamente parziale, al normale regime pensionistico. In questa ultima settimana noi andiamo avanti naturalmente con i dati che escono fin tanto che non ci sarà un testo unico e definitivo. Qualche novità in più possiamo dire qualcosa? Mi sembra che per esempio opzione donna si stia muovendo qualcosa. Siamo sempre nel campo comunque delle ipotesi. Ancora, diciamo, testi definitivi approvati purtroppo ancora non ci sono. Diciamo, a seconda dei punti di osservazione delle fonti di cui uno dispone, si hanno delle notizie più o meno certe. Diciamo che sembrerebbe questa ipotesi dell'opzione donna dovrebbe, diciamo, essere nuovamente ripristinata ma non in via strutturale ancora per un periodo sperimentale da vedere. Questo mi pare che sia anche legato alla discussione attualmente in corso con l'Europa se uno o due anni ancora. con alcune però modifiche. Il fatto che l'età partirebbe non più da 57 ma da 58 per le lavoratrici del settore privato e 59 per le lavoratrici del settore autonomo. Sempre con 35 anni di contributi? Sempre con 35 anni di contributi e sempre con questa opzione, diciamo, per il calcolo contributivo che nella, diciamo, generalità dei casi è un calcolo penalizzante. Cioè, di solito si va, si percepisce la pensione in anticipo ma l'importo, l'assegno chiaramente si riduce in virtù di questo sistema di calcolo. Ecco, dalla tua esperienza, opzione donna è un qualcosa che aveva avuto successo? Sì, io direi che è stato, diciamo, un canale di uscita, è stato preso in considerazione da molte persone. Soprattutto è stato ancora più rivalutato, in conseguenza, anche della legge Fornero. Nel senso che posticipando di molto la decorrenza dell'età della pensione di vecchiaia anticipata, diciamo, gli anni di anticipo erano diversi e quindi, facendo due conti, magari uno portava, non so, anche solo 1.000 euro al mese, ipotesi. Però se c'era un anticipo di 4, 5 anni, 6 anni, è chiaro che diventava una cifra che poteva essere interessante. Anche sulla base delle questioni personali, familiari, sociali, certo. Sentiamo se c'è un... dovrebbe esserci un telespettatore. Pronto, buonasera. Buonasera, telefono dalla provincia di Piesenza. Ascolto, io ho 63 anni e mezzo e a gennaio avrò 41 anni e mezzo di contributi. Con quota 100, come potrebbe funzionare? 63 anni e 41 e mezzo di contributi. Va bene, le rispondiamo. Grazie della chiamata. Beh, il signore è tra quelli messi bene, diciamo. Sì, sì, diciamo che... Però c'è una risposta precisa a questa domanda, non è possibile darla, se non nel senso di dire che, stando a quelle che sono le proposte del governo, la discussione che c'è in Parlamento, il diritto in questa situazione ci sarebbe, perché si parla di 62 anni e 38 anni di contributi, quindi la quota 100 sarebbe raggiunta. Quale poi sarebbe la decorrenza quando vi si potrebbe accedere, quando si apre la finestra, questo non posso fare altro che rinviare all'approvazione definitiva della norma. Ecco, e ci è arrivato anche un messaggio WhatsApp, vediamo un attimo, di Giampaolo Todesco, che percentuale di penalizzazione c'è andare a 41 anni anziché 43, ovvero, dice lui, chiede, due anni prima cosa comporta come percentuale. Allora, la domanda è interessante perché permette di fare chiarezza su questa questione delle penalizzazioni che ho visto anche a livello di discussione giornalistica, di dibattito sui giornali è stata spesso ripresa, soprattutto in relazione alla quota 100. Allora, chiediamo una cosa che è vero, all'inizio della legge Fornero erano state introdotte delle penalizzazioni a chi decideva di andare prima in pensione. Ma queste penalizzazioni ormai sono cinque anni che sono state abolite. C'è perché ci sono stati interventi dei sindacati, c'è stato intervento, diciamo, anche politico su questo aspetto della manovra Fornero e ora le penalizzazioni sulle pensioni anticipate non esistono. Ok? Allora, per rispondere a questa domanda qui, il discorso è che se l'importo della pensione è collegato a quello che sono i versamenti contributivi, per cui più verso e più la mia pensione si alza, è ovvio che meno verso e meno ho un rendimento pensionistico. E quindi avrò un assegno? Avrò un assegno più ridotto. Quindi è chiaro che se uno decide di andare con l'opzione 100 e ha 38-39 anni di contributi, sì, leggo sui giornali, ci perde il 20%, il 30%, ma non perché è penalizzato, ma semplicemente perché decidendo di mettersi prima, di interrompere i versamenti, è chiaro che se non andando avanti a lavorare altri 5-6 anni, la pensione sarà ridotta. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Sì, pronto? Sì, la ascoltiamo, può fare la sua domanda. Prego. Sono in televisione e vi sto guardando. Sì. Io faccio 65 anni a gennaio e 42 anni di contributi. Sì. Io faccio 65 anni a gennaio e 42 anni di contributi. Posso accedere alla pensione? Ne rispondiamo, grazie. 65 anni a gennaio con 42 anni di contributi. Non ci siamo ancora. No, la pensione è sicuramente addirittura d'arrivo, ma non è immediata, perché il requisito erano i 42 anni e i 10 mesi che dovevano essere maturati entro la fine di quest'anno, a meno che il signore non appartenga a una di quelle categorie, diciamo, dei cosiddetti lavori gravosi, di cui siamo ancora in attesa il decreto attuativo che ci spiega come fare. Ancora non lo sappiamo. Oggi cos'è il 17 dicembre? Ancora non lo sappiamo. È una norma che dovrebbe entrare in vigore fra 13 giorni. Quindi lui dovrà in questo momento raggiungere il requisito quello ordinario che sono i 43 anni e 3 mesi. Quindi da 42 anni di contributi è ancora un anno e 3 mesi. Eh sì, ancora un anno e 3 mesi perché non matura prima l'età per la pensione di vecchiaia che sono i 67. Va bene, prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Sono Antonio D'Amonza. Prego, signor Antonio, tenga basso il volume del televisore. Grazie. Perfetto. Faccia pure la sua domanda. Certo. Senta, io l'anno prossimo, ad agosto, ho maturato i 41 anni di contributi. Sì. Sono l'autore precoce e svolgo un lavoro durante, cioè gravoso, sono tutti stati mezzi pesanti. Volevo sapere se praticamente sono in vigore ancora i 5 mesi per l'aspectiva di vita. Quei 5 mesi che scatterebbero da gennaio 2019, oppure no. Quindi il lavoratore fa l'autista, lavoro... Non ho capito, ha 31 o 41 anni? Lui ha detto 41. Ah, 41. Ok. Le rispondiamo? Grazie. Sì, allora, senz'altro potrebbe nel corso dell'anno prossimo farsi, diciamo, certificare la condizione di lavoro gravoso o usurante e quindi poter accedere alla pensione solo con i 41 anni di contributi. Cioè, per questa persona qua, in questa situazione qui, il canale, l'accesso alla pensione più diretto sarebbe quello. Quindi fare la richiesta di certificazione all'Inps, farsi riconoscere questa condizione lavorativa e, una volta che l'Inps riconosce questa condizione, potrà accedere alla pensione anche solo con 41 anni di contributi. E questo per forza di cose? Sì, questo qui è una misura strutturale, non è come l'ape sociale che erano misure sperimentali che stiamo aspettando, appunto, l'eventuale proroga da parte del governo. Questa era una misura strutturale per cui tutti coloro che matureranno 41 anni nel corso dei prossimi anni, più l'aspettativa di vita, potranno accedere a questa possibilità. Dunque, abbiamo un'altra telefonata in linea, chiedo di pazientare un minuto perché c'è il blocco pubblicitario tra poco. Eccoci ancora in vostra compagnia con il nostro esperto Luca Chiarei, patronato Inca CGL di Milano. Dovremmo avere un'altra chiamata sul tema pensioni. Pronto? Buonasera. Pronto? No, allora aspettiamo la prossima chiamata. Intanto abbiamo un WhatsApp. Buonasera. Ho 64 anni, 36 di contributi. Quando potrò andare in pensione? Ci chiede questa telespettatrice. La data del pensionamento sarà per forza quella della pensione di vecchiaia, quindi al compimento dei 67 anni, ma non riuscirà a maturarli nel prossimo biennio, quindi saranno i 67 anni più 3 mesi dell'aspettativa di vita. naturalmente non ce la fa più a maturare i 41 anni e 10 mesi, quindi il canale di uscita è quello lì. Per forza di cose l'età anagrafica. L'età anagrafica. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera. Io do un'informazione per cortesia. Io sono un disabile con l'80% di disabilità. Lei pensa che per quest'anno, con queste nuove proposte che hanno fatto il governo, ci possa essere qualche aumento? Un aumento del suo assegno, diciamo così. Un assegno di validità, perché mi hanno detto che è un po' di anni che sono fermi questi assegni. Mi hanno sentito che parlavano, ne stanno dicendo tante, che potrebbe esserci un aumento di qualcosina oltre l'inflazione. Lei pensa che ci possa essere? Ok. Le rispondiamo, grazie della chiamata. Ma in questo momento non ci sono, diciamo, misure di questo genere, a meno che non vogliamo far rientrare in questa partita qui tutto il ragionamento sul reddito di cittadinanza e, diciamo, l'innalzamento delle pensioni, diciamo, a quel tipo di importo. Quindi per quanto riguarda l'invalidità... al di là di quello che ha già citato il telespettatore, cioè l'adeguamento all'inflazione, la perequazione, quella che ordinariamente viene attribuita ogni anno, no? Non ci sono misure specifiche. Non c'è nulla. Per cui, per il momento, l'assegno rimane quello che è, dobbiamo dire, purtroppo. Pronto? Buonasera. Eh, buonasera. Volevo poter parlare... Sì, prego. ...una teletensione. È in onda, può fare la sua domanda? Eh, no, ho sentito prima che in pratica c'era questo signore che aveva 64 anni e 36 di contributi. Scusi, ma non può accedere alla quota 100, questo signore? Eh, la quota 100 però bisogna aspettare che sia effettiva, perché adesso se ne parla ma non c'è ancora il nero su bianco. Sì, però, di regola, da quello che hanno detto, dovrebbe, diciamo, se quello che hanno promesso dovrebbe essere così. Sì, la quota 100 è effettiva, 34 e 36, e 64 e 36 dovrebbe essere quella. Sì, però, per rendere operativa una norma bisogna che sia approvata, cioè che ci sia una legge. Perché richiede, tra l'altro, un minimo di 38 anni. Sì, con l'ipotesi che dovesse essere approvata. Sì, certo, in quell'ipotesi lì sì, ma il mio lavoro è ragionare sulle leggi, sulle normative vigenti. No, no, no. Fino a che questa norma non c'è, io non posso dire che si può accedere. Si parla anche di un minimo di 38 anni. Si parla anche di un minimo di 38 anni. E' ovvio che il 34, cioè il 36 e il 64 dovrebbe essere dentro. No, in tutti i casi no, perché comunque c'è un minimo che giustamente mi stavi ricordando di 38 anni di contributi. Perché anche quota 100 prevede come minimo 38 anni di contributi. Quindi ci sarebbe dentro... Ma però dicevano che lo sbarramento era 62 più che 38. No, ci sono tutte e due. Cioè, 62 come età, ma 38 come contributi. Se uno ha 62 anni... Se uno va avanti negli anni e somma le cose, mi sembra un po' strana. Cioè, il minimo sono 62 anni di età e il minimo sono 38 anni di contributi. Cioè, sotto questi due numeri non si può andare, per cui... Ah, quindi sbalutano sia gli anni che la contribuzione. Sì, tutte e due. Non ho capito. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie a lei. Buona serata. Allora, siamo veramente in conclusione. Abbiamo un ultimo minuto. Cosa possiamo dire? Perché tu, poi col tuo lavoro te ne accorgi, c'è grande attesa su questa quota 100. Noi auspichiamo ormai da mesi di avere un testo scritto e soprattutto definitivo. Sì, sì. Anche quest'ultima osservazione del telespettatore è in linea con questa tendenza. Però, purtroppo, noi non possiamo determinare una decorrenza di pensione se io non ho la normativa che me la rende esecutiva, applicabile, esigibile. Cioè, se io non posso fare ancora una domanda per una prestazione che non c'è, è ovvio che l'unica cosa è aspettare che prima o poi questa cosa si materializzi e si concretizzi. Ecco, ma a tuo avviso ci saranno, ovviamente con la quota 100 si andrà in pensione un po' prima, l'assegno sarà più basso perché il numero di contributi, l'abbiamo detto, è inferiore. Ma tu hai il sentore che molta gente usufruirà di quota 100 o alla fine ci saranno molti che invece andranno con la classica legge Fornero? Ma se dovessi, diciamo, rispondere in base alle richieste che ci sono state fatte, direi che quasi uno su due che ha questa possibilità potrebbe accedervi. Poi, ripeto, fino a che non vedo anche la circolare applicativa, come questa norma si renderà operativa, sarà difficile rispondere perché una cosa che noi ovviamente non potevamo parlare è anche chiarire con che tipo di contribuzione si potrà accedere a questa quota 100. Si potrà fare i cumuli, si potrà totalizzare, si potrà computare, cioè tutti i vari metodi per mettere insieme le gestioni pensionistiche. Abbiamo un messaggio Whatsapp, l'ultimo, e ci chiede questo telespettatore nel 2019 si va con 42 anni e 10 mesi o 43 anni e 3 mesi? La risposta è con entrambi i canali, dipende dalla condizione del lavoratore. Ordinariamente è 43 anni e 3 mesi, ma se il lavoratore fa uno di quei lavori gravosi dovrebbe essere esentato dall'innalzamento dell'aspettativa di vita e andare col requisito precedente. È il decreto che aspettiamo ci porti Babbo Natale a questo punto e lo renda operativo. Va bene, siamo in conclusione, ringrazio tantissimo Luca Chiarei, patronato Inca CGL di Milano. Vi ricordo tra poco il nostro telegiornale, il telegiornale Sport e poi questa sera Linea d'Ombra Schierati con Adriana Santacroce, come sempre i temi principali di attualità e di politica. Grazie, buon proseguimento, buona sera.